Io sono Claudia Monti, sono una titolare di un nido privato a Terni, Semi di Mela, e sono la referente per l'Umbria del Comitato Educhiamo. Con questa pandemia tantissimi educatrici si sono unite per trovare insieme delle soluzioni e per farsi anche forza. E questa è una delle cose belle che è venuta fuori da questa situazione, è questa rete, che è una rete che è nazionale. Adesso però abbiamo bisogno di risposte che siano appunto la proroga della Cassa Integrazione che lo Stato si è scordato nell'ultimo decreto, il governo, di prolungare. Ha prolungato per un tempo che è insufficiente a coprire la chiusura dei servizi che ad oggi non si sa quando riapriranno né come riapriranno.